Ciao a tutti, oggi è il 26 luglio 2009, siamo in viaggio per andare a Rivisondoli in provincia dell'Aquila dove si darà il convegno Esplorando la Bibbia 2009. Questa macchina beve. Grazie, vuol dire di qua dentro? Ah no. E adesso? Eh, adesso troviamo un'alternativa. Da principale la galleria era bloccata, questa era la prima alternativa, troveremo un'altra. Stiamo trovando le strade messe un po' male. Tanto ci sono cartelli di lavoro in corso ovunque, è un'intera regione con i lavori in corso. Poi le strade, anche quelle apparentemente sane, hanno dei dislivelli, delle crepe che insomma fanno comprendere bene la portata del danno che hanno avuto. Adesso stiamo facendo questa strada che sembra quasi una strada di montagna ma che suppongo un po' ci porterà dove dobbiamo andare. Dopo ci porterà dove dobbiamo andare. Saremo in un hotel alternativo perché quello dove dovevamo andare sta ospitando i terremotati. quindi quello dove andremo si chiama Cipriani. Sono le 7 di sera e ci sono 17 gradi e siamo con i pantaloncini corti. Siamo finalmente arrivati a destinazione. Qui alle mie spalle si trova la cappella dove si faranno gli incontri di questo convegno.